Il nuovo anno del Teramo si apre con un punto, quello che i biancorossi conquistano al Bonolis contro l'Avellino in un vero e proprio scontro diretto in salsa playoff. Paci ripropone Santoro nei tre davanti come a Bisceglie ma stavolta al posto di Costa Ferreira, arretrato come terzino. Con Arrigoni c'è Viero mentre Bombaggi vince il ballottaggio con Mungo, dietro c'è Trasciane e Noiotti con Diachite nell'Avellino davanti senza maniero e Santaniello a sedersi in panchina nella volata a tre che vede premiati Fella e Bernardotto con Aloy e D'Angelo in mezzo al campo. Irpini che sembrano partire forte con la conclusione di Fella dalla distanza, l'attaccante bianco-verde colpisce male e pallone che termina a lato. Il diavolo però colpisce la prima opportunità. Punizione di Arrigoni, il rinvio di Silvestri colpisce Diachite in faccia e il rimpallo diventa buono per il tappino vincente di Bombaggi, destrangolato, forte battuto in rete del vantaggio di casa. Gioia per il numero 10 biancorosso dopo il 2020 decisamente in chiaroscuro ma mattatore ancora come nella passata stagione a gennaio contro l'Avellino che prova la reazione al tredicesimo con D'Angelo pescato in area di rigore solo ma che di testa non riesce a girare in maniera angolata con Lewandowski che para. Da dimenticare invece il piazzato di Aloy al ventiduesimo, sfera in curva, molto più pericolosa la squadra di Paci in ripartenza, ancora con Bombaggi che vede lo sganciamento di Trasciani stoppato però proprio al momento della conclusione. La formazione di Braglia ci prova con il destro di prima intenzione di Ciancio, la potenza c'è, la precisione meno esattamente come al 44esimo quando Rocchi batte un piazzato dalla distanza senza trovare lo specchio della porta. La ripresa si apre con Paci che richiama il già munito viero per Di Francesco ma anche al decimo. Col gol del pari irpino, fallo di Diachite in area di rigore su Bernardotto per Caldera di Como. Il calcio di rigore è D'Angelo, batte Lewandowski nonostante il polacco intuisca la traiettoria del centrocampista bianco-verde. L'inizio di riprese è favorevole agli ospiti, Braglia inserisce Carriero per Adamo ma è Fella al 22esimo a chiamare Lewandowski alla superparata sulla staffilata dal limite dell'area di rigore. Entrano Baraglia e Santaniello per titolo stesso Fella ma il diavolo cresce alla distanza. Costa Ferrera prima ci prova col destro centrale, poi arma la testa di Pinzauti che spizza la sfera, pallone sul palo e che torna tra le braccia di Forte. Occasione clamorosa per il Teramo che vede Aloy tre minuti dopo schiacciare una conclusione su cui non arriva D'Angelo. Pace richiama Bombaggi e Pinzauti per Mungo e Gerbi ma ecco il destro di Costa Ferrera Alto che si chiude il match. Finisce 1-1 e le due formazioni in classifica salgono a braccetto a quota 28 punti per il Teramo domenica. Ultima di andata in trasferta a Viterbo.